ho rifatto questa presentazione migliaia di volte perché tutte le volte non mi piaceva spero di farla adesso di getto e perdonerete qualsiasi tipo di strafalcione e di errore perché è tanta la mia commozione nel guardarmi indietro a vedere questi primi sette mesi di video su youtube l'ho fatto con passione e lo faccio con passione con tutte le lacune e i difetti possibili ma cercherò di migliorare di presentarvi sempre dei prodotti più efficaci ringrazio molto steve somerset con cui ho collaborato nei primi miei cinque video e che vorrei consigliarvi di seguire e metto il link in descrizione perché nel 2022 uscirà un suo album pop che è la cifra stilistica che lo contraddistingue poi vi voglio fare i miei più sinceri auguri per il 2022 e di cuore a voi e a tutti i vostri cari e se fosse qui leopardi pensando alle operette morali e a quel dialogo tra il venditore di almanacchi e il passeggero beh se fossi stato il venditore di almanacchi oggi in questo momento direi che qualche anno di quelli passati forse lo arriverei indietro auguroni a tutti ancora di buon 2022 a presto e buona visione mi dimenticavo mi raccomando iscrivetevi al canale grazie a tutti 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 grazie a tutti